In tilt le connessioni telefoniche mobili nel territorio tra Sapri e Torraca. Dal 15 giugno telefonare con il cellulare è un'impresa titanica. Assenza di campo, caduta della linea durante la conversazione, audio disturbato o di qualità scadente. Da qualche ora addirittura esce sul display la notizia che è possibile fare solo chiamate SOS. È davvero incredibile che nel terzo millennio ci sia quello che sembra un vero e proprio blackout di un servizio essenziale collegato a un diritto costituzionale. La cosa è ancora più grave se si pensa al periodo di pandemia che stiamo attraversando. Che cosa succederà se le autorità sanitarie e istituzionali dovessero proclamare una nuova chiusura totale come avvenuto nei mesi di marzo e aprile? È chiaro a tutti che la situazione è grave e sta portando alla esasperazione gli utenti del servizio di telefonia mobile. È l'ora che i sindaci si facciano carico di questi problemi, ben più importanti delle sagre, delle feste, dei parchi giostre. Servono interventi istituzionali forti e serve anche una presa di coscienza dell'opinione pubblica, finora troppo distratta anche su questo tema. La comunicazione è questione che riguarda la democrazia e le libertà costituzionali.